Blocco del traffico quest'oggi per tutta la mattinata a Belfiore, siamo all'azienda MaxiD che offre servizi di logistica per dei grandi magazzini alimentari, un fatto legato alla cronaca nera. Qui spesso i dipendenti di una cooperativa che presta servizio protestano in questa maniera per le loro condizioni di lavoro. Ebbene è stato picchiato uno dei ragazzi che era sindacalmente maggiore esposto. Da qui la protesta che ha creato anche 5 chilometri di fila dalla Porcilana fino all'ingresso dell'azienda. Il ragazzo aggredito è un nostro delegato sindacale che in questi mesi si è sempre battuto per combattere le forme di caporalato dentro a questo magazzino a Belfiore. Ed è stato seguito al termine del turno di lavoro e aggredito sotto casa da tre personaggi a volto coperto e armati di bastoni. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta per cercare di capire i connotati di questa vicenda. La testimonianza del compagno di lavoro che lo ha soccorso. E' arrivato tre ragazzi con la faccia chiusa e qualcuno che ha pagato per uccidere. Perché era finalmente perché io stavo con lui, loro mi hanno chiamato, ho detto vieni qua, è successo questo qua. Perché chi che abita con lui mi ha chiamato, ho detto vieni qua, è successo questo qua. Quando è andato io, lui è proprio che non sentiva come è morto. Due o tre ragazzi, subito con due minuti, con sopra qua, testa, era rotto tutti i due bracci, la gamba, è anche successo operato, è stato rovinato. Comunque era sua vita, comunque è finita. Il problema di base, secondo quelli di ADL Cobas, è un problema di caporalato. Già a maggio c'è stata una denuncia, pare che alcune persone per entrare abbiano pagato 5.000 euro a un personaggio indiano, si tratta di due o trecento persone che hanno dovuto soggiogarsi in questa maniera. In più è comparso anche un secondo personaggio che opera alla stessa maniera con gli sri lanchesi. Si vuole porre fine a questo sistema che per tanti lavoratori significa davvero un gioco pesante. Io ho già pagato entrare a lavorare 1.000 euro, già lavorato due anni e due mesi, adesso voglio quinto contratto per interminato, adesso loro non fare contratto, butta fuori. Qua per entrare devono pagare soldi, quelli che lavorano fino a due anni, tre anni, dopo buttano fuori per creare nuovi posti, che così consumano ancora soldi per assumere persone. Guarda adesso se prendono 50 persone in 6-7 mesi, 50.000 euro, se paga 1.000 euro. Alcuni dicono 3-4.000 euro pagato. I carabinieri in queste ore stanno interrogando i familiari, gli amici di Terlò, che è ragazzo indiano aggredito, che è tuttora in ospedale, non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono definite tuttora gravi. Grazie.